Mi chiamo Luca Di Fulvio, sono nato a Roma e ho 44 anni. Mi ritengo un discendente di quei cantastorie, se ne andavano in giro per le piazze che montavano il loro carretto, tiravano su un siparietto dove era disegnata per grandi linee la storia, pigliavano una chitarretta se serviva, mettevano il cappello dove gli spettatori dovevano poi buttare l'ombolo e raccontavano una storia che doveva appassionare. Amo le storie. Il libro che ho scritto e che ho pubblicato con la mursia che si intitola L'impagliatore ne è un esempio. Io non sono uno scrittore specificamente di thriller, questo nella fattispecie però è un thriller. Ed è una storia, non è riscontrabile nella realtà, anche se appare reale. E credo che per raccontare una storia, e questo fa parte di me, del mio essere, bisogna riuscire a raccontarla in un certo modo. E quel certo modo è la qualità della scrittura alla quale io cerco, cioè sono attento e che cerco ovviamente di realizzare. Prima dell'impagliatore ho scritto una storia che si potrebbe definire, ammesso che serva farlo, gotica. Si intitolava Zelter ed è una storia d'amore abbastanza surreale, nel senso che i protagonisti sono assolutamente improbabili. Un vecchino settantenne è una ultracentenaria vampira. E tornando all'impagliatore, è un libro di forti emozioni, di angosce. Un libro che spero sia in qualche modo catartico, ovvero che chi legge entri in una storia assolutamente agghiacciante e che spurghi un po', come si faceva con le tragedie greche, che spurghi delle paure. Cioè credo che le storie comunque provengano molto dalle paure. E credo che nell'impagliatore vengano in qualche modo affrontate queste tematiche interiori. Io credo che sia un libro d'azione, un thriller, una storia che dovrebbe, che spero, che accalappi, che coloro che l'hanno letto e mi hanno scritto sulla mia e-mail i loro commenti, mi hanno confermato che erano stati accalappiati. Ma, devo dire, quasi tutti i commenti che ho ricevuto sono perché i personaggi sono vivi, perché sono disegnati, perché sono luci ed ombre, perché sono completi, complessi. E credo che di questo parliamo. Cioè parliamo sempre di persone, esseri umani, che devono dalla carta emergere vivi. Cioè parliamo sempre di persone, esseri umani, che devono dalla carta emergere vivi.